Un saluto dal dottor Palmas, ti mostro un altro caso risolto di denti fissi con sistema bocca bionica. Il paziente non aveva più sorriso, letteralmente, non si vedeva, era sotto le labbra, aveva dei denti metalloceramica fatti male, storti, come puoi vedere il piano clusale, non era in asse, aveva già fatto tanti lavori dal dentista ma non aveva ottenuto nessun risultato. Oltre questo, la malattia parodontale è andata avanti, nota come i denti erano storti. Questo accade quando si vanno a posizionare nella bocca del paziente su impianti dentari delle corone in metalloceramica incollate. Questa è una situazione di malpractice, ovvero lavori fatti male. Questo è quello che accade quando non viene simulata la gengiva, dei denti finti, artificiosi, artificiali che non hanno per niente l'aspetto di denti naturali, oltre che poi risultano essere storti in bocca. Abbiamo proceduto quindi alla rimozione di questi denti, eseguito la chirurgia, riposizionato in seguito sopra impianti dentali delle protesi congrue, delle protesi fatte bene. Questo è già il primo risultato che abbiamo ottenuto. Come vedi dei denti imperialistici, dei denti in zirconio, due linee superior con barra in titanio che regge i denti e li porta nella posizione corretta. L'osso è stato regolarizzato, abbiamo simulato i tessuti perduti della bocca. Questa è la situazione di partenza, l'altra sulla destra è la situazione finale. Abbiamo fatto un design di dove sarebbero dovuti essere correttamente posizionati i denti e a quel punto abbiamo ricreato le arcate definitive. Queste sono due linee di fascia alta, top di gamma, superior, che hanno un aspetto assolutamente indistinguibile da denti reali. Infatti sono delle repliche digitali di denti scansionati che vengono poi riprodotti roboticamente. In questo modo abbiamo in maniera indistinguibile ricreato la dentatura del paziente in asse occlusale corretto. Il paziente avrà sempre una copia dei suoi denti in cloud, il paziente ha ritrovato la gioia di vivere, ora finalmente ha un sorriso col quale può masticare e può avere una vita sociale.